Buongiorno a tutti. Qua è il profilo di un sci di freeride, un puro sci moderno. Si vede che il rocker e anche la curva della punta si è fatta specialmente per passare tra tutti i differenti livelli di neve e questo si chiama il Scrapper. Questo sci 124-190 è lo sci da Jeremy Ice del Freeride World Tour, la stessa roba, all'ecceto che abbiamo quest'anno rifatto completamente questa gamma. Il Scrapper è un sci Big Mountain che l'abbiamo fatto più leggero, da 250 grammi. Dunque, su una largessa così, con una costruzione di sandwich e di legno, abbiamo un livello di performance ottimale e non è l'unica roba. L'altra roba è che lui ha fatto un fratellino, un fratello 115 sotto il piede e questo sci è il Scrapper 115, è il nuovo prodotto nostro, è un sci già più versatile, che si può usare in altre condizioni, meno estremi di neve e polvere, è più uscita per tutti i giorni, 115 sotto il piede, un 182, un 189. Tutta la gamma Scrapper era ridavorata per dare piacere, performance e anche sicurezza in tutte le condizioni di neve. Siamo molto contenti perché abbiamo un livello alto Freyride.